Ai finanzieri in servizio al confine aveva dichiarato di non avere valuta al seguito, ma ad un controllo stradale effettuato dai militari lungo la statale 37 a Villa di Chiavenna, poco lontano dal valico doganale di Castasegna, un 48enne di origini siciliane residente in Lombardia, fermato a bordo di un'auto di lusso proveniente dalla Svizzera, è risultato avere tra i suoi effetti personali due assegni compilati privi solo dell'indicazione del beneficiario e denaro contante per un valore complessivo di circa 25 mila euro sottoposti a sequestro. L'intervento è stato effettuato nei giorni scorsi dai militari della sezione della tenenza di Chiavenna della Guardia di Finanza agli ordini del tenente Guglielmo Mariamina. L'individuo sul quale sono in corso ulteriori approfondimenti per verificarne la posizione finanziaria e patrimoniale si è reso responsabile della violazione amministrativa di tipo valutario prevista dalla legge omettendo di presentare preventivamente la dichiarazione e tentando di introdurre illecitamente nello Stato il denaro posseduto. La normativa vigente in materia di passaggio transfrontaliero di contanti o assegni infatti impone l'obbligo di dichiarare al confine il transito di valuta superiore al limite di 10 mila euro. In caso contrario, oltre al sequestro della somma eccedente il consentito, il trasgressore rischia pesanti sanzioni. L'obiettivo della legge, spiegano le fiamme gialle, è quello di monitorare il passaggio dei flussi finanziari così da contrastare eventuale introduzione illegale di valuta a danno del corretto svolgimento dell'attività economica e dei canali legali di finanziamento. Per questo, spiega il nuovo comandante della Guardia di Finanza di Sondrio, colonnello Giuseppe Cavallaro, il comando provinciale ha ulteriormente incentivato l'attività del corpo sul territorio, finalizzata alla prevenzione e repressione dell'illecito traffico transfrontaliero di valuta nella fascia doganale di confine italo-svizzera.